E' possibile realizzare una postazione da gaming con meno di 50 euro? Belli prodottini tech economici! La scritta attiva Windows, non vi fa dormire la notte? Ma niente paura, vi viene in aiuto il vostro Lorettec. Attraverso Keysfan potete acquistare chiavi di Windows 10, Windows 11 o pacchetti di Office a prezzi veramente scontati. Vi faccio vedere un po' di esempi. Office 2021 Professional, una chiave a meno di 30 euro, soli 27,75, inserendo il mio codice sconto LORE62. Windows 10 Professional a 8,78 euro, Windows 11 Professional a 13,31 euro. Una volta scelta la vostra chiave, aggiungete a carrello, inserite il mio codice sconto LORE50 e andiamo a inserire la nostra chiave. Clicchiamo su attiva, Windows è attivo. Semplice, pratico e veloce, tutto in pochi click. Ciao e bentornati dal vostro Lorettec. Ho trovato la soluzione più economica per cominciare a fare gaming. In questo video vedremo nel dettaglio le periferiche che ho scelto per cominciare a fare gaming nel 2024. Ma direi di non perdere altro tempo e di cominciare subito. Prima componente, combo, tastiera e mouse, RGB, brand Mars Gaming. Modello MCP 118 Gaming Combo. Per ogni unboxing che si rispetti, ci muniamo delle nostre forbici e andiamo ad aprire il sigillo. Andiamo all'unboxing. Che cosa troviamo? Tappetino, tastiera e da questa parte il mouse. Vediamoli meglio nel dettaglio. Qualità costruttiva, devo dire, veramente buona. Magari me lo sarei aspettato un po' più grande. Forse è un po' piccolino. Qui abbiamo il mouse che si collega via cavo tipo USB-A, cavo intrecciato. La qualità costruttiva, devo dire, niente male. Mars Gaming, qua abbiamo diversi tasti. Lo scroll dovrebbe essere anche il mouse RGB. Vedo qui, tasto destro, tasto sinistro, la rotellina. Altri tasti personalizzabili sulla destra. Mi ricorda molto quello di Corsair che ho recensito qualche tempo fa. Continuiamo con la tastiera in colorazione nera. Qua abbiamo la scritta Mars Gaming in alto. Vi faccio sentire il rumore dei tasti. tastiera 100% con tastierino numerico. Anche lei RGB. Qua abbiamo un piccolo rialzo per favorire la digitazione e il gioco. Questo è come si presenta la parte laterale. Parte posteriore che ha questi due piedini che ci permettono di poter andare a rialzare la nostra tastiera. Alimentazione attraverso il cavo USB di tipo A. Anche lei ovviamente RGB. L'altra periferica, importante per il gaming, un impianto audio con due casse e un subwoofer. Qua abbiamo il logo del Bluetooth. Cavo jack 30 watt di potenza, modello MSX. Sempre di casa Mars Gaming. Con la tipica colorazione nera e con gli interni rossi. Volevo farvi vedere prima di unboxarlo l'anteprima nella parte destra della confezione. Che cosa abbiamo? Qui l'anteprima del nostro prodotto con un ingresso USB di tipo A, un ingresso micro USB e altri tasti per la gestione dei nostri speaker. Andiamo all'unboxing. Mettiamo tutto sul tavolo. Ok, cominciamo con il subwoofer. Qualità costruttiva, ragazzi, molto ma molto plasticosa. Abbiamo questi quattro piedini che ci serviranno per poggiare il nostro sub. E qui nella parte in alto del nostro sub abbiamo l'entrata USB, questi altri quattro tasti e l'entrata micro SD per gestire la musica. Come viene collegato? Attraverso due jack al canale destro e il canale sinistro, il tutto viene alimentato attraverso la USB e il jack. Andiamo adesso all'unboxing dei due speaker, il destro e il sinistro, sempre in plastica, abbiamo questa forma qui, molto comoda la parte morbida per non graffiare le nostre scrivanie. Cavo, jack che si va a collegare, finitura in nero opaco, qui abbiamo una parte incava, questa in plastica, devo dire morbida e qui abbiamo la parte interna rossa che vedevamo anche nell'anteprima. Tutte le periferiche sono nella scrivania, direi di andarle a posizionare. Signori, la postazione è terminata. Direi adesso di andare a vederla meglio nel dettaglio. Vediamo tutto meglio nel dettaglio. Subwoofer, che funge anche da amplificatore, speaker destro, speaker sinistro, sono collegati attraverso i due jack alla nostra unità principale. Viene collegato al nostro pc attraverso il jack e un cavo di alimentazione USB. Lui si alimenta attraverso la porta USB. Questo è sicuramente un punto di forza, ma anche un limite per quanto riguarda la potenza. Passiamo al tappetino morbido, qualità costruttiva, devo dire, ottima. Vediamo come scivola, ne devo dire niente male. Parliamo adesso del mouse. Diversi colori che cambiano automaticamente. Vedete, siamo passati dal verde al blu. Qua abbiamo il tasto, qui abbiamo la rotellina per lo scroll. Tasto destro, tasto sinistro. I due tasti programmabili. Qualità costruttiva, sì, un po' plasticoso, ma devo dire niente niente male. Mi piace molto il cavo telato. Anche lui si connette attraverso la porta USB A per una migliore connessione e stabilità. Passiamo alla tastiera. Anche lei RGB, la scritta Mars in alto. Non abbiamo utilizzato in questo caso i piedini per rialzarla, ma vi faccio vedere. È molto semplice. Ecco qui, abbiamo tirato su i piedini. Questa è l'altezza massima che riusciamo a raggiungere. Niente, niente male. RGB. Anche lei si collega attraverso il cavo USB al nostro PC. Una funzione molto particolare che non vi ho fatto vedere. Attraverso il tasto Search possiamo cambiare sorgente. Che cosa possiamo andare a fare? Utilizzare le due sorgenti, quindi o la USB o la micro SD per gestire la nostra musica. Inoltre fa anche da radio. Eccola qua. Pronto per la connessione attraverso il Bluetooth. AUX Input Mod. Sono veramente troppo curioso. Andiamo a provarlo subito con qualche gioco. Adesso utilizzeremo il mio iPad. Lo proveremo con la connessione Bluetooth. Andiamo a cambiare sorgente. Colleghiamolo al nostro iPad. Eccolo qui. MSX Bluetooth. Perfetto. Connessione effettuata. Siamo su YouTube. La scritta attiva Windows. Non vi fa dormire la notte? Ma niente paura. Vi viene in aiuto il vostro Lorettec. Attraverso KISFARM potete acquistare chiavi di Windows 10, Windows 11 o pacchetti di Office a prezzi veramente scontati. Vi faccio vedere un po' di esempi. Office 2021 Professional. Una chiave a meno di 30 euro a meno di 30 euro a soli 27 e 75 inserendo il mio codice sconto l'ore 62. Windows 10 Professional a 8 euro e 78. Windows 11 Professional a 13 euro e 31. Una volta scelta la vostra chiave aggiungete a carrello, inserite il mio codice sconto l'ore 50 e andiamo a inserire la nostra chiave. Clicchiamo su attiva, Windows è attivo. Semplice, pratico e veloce, tutto in pochi clic. E' arrivato il momento di trarre le conclusioni. Ma prima vorrei parlarvi dei pro e dei contro. Sicuramente il prezzo è uno dei suoi punti di forza. Riusciamo a portarci a casa questa combo con meno di 50 euro. Se vogliamo cominciare a fare gaming o magari se abbiamo bisogno di determinate periferiche è sicuramente una buona scelta. La qualità costruttiva non è quello che mi sarei aspettato ma questo è proporzionato al prezzo. Ho sentito un lieve fruscio quando colleghiamo il jack, lo utilizziamo attraverso il jack, mentre in bluetooth non ho sentito nessun tipo di fruscio. Dimensioni piccole, compatte, riusciamo tranquillamente a posizionarle nella nostra scrivania, anche se avrei preferito dei cavi un pochettino più lunghi in modo tale da poter andare a posizionare meglio il nostro amplificatore che funge anche da subwoofer. Ottima la possibilità di avere già un impianto completo. Diverse sono le funzioni che possiamo fare con questo piccolo impianto. Quindi gestire la nostra musica o i nostri file musicali attraverso la USB e la micro SD, utilizzarlo attraverso il jack, si alimenta attraverso la porta USB, quindi non abbiamo bisogno di nessun alimentatore. Potrebbe essere anche molto utile se vogliamo portarlo con noi magari per una grigliata o una piccola gita fuori porta. Possiamo tranquillamente collegarlo ad un power bank. Ha la possibilità di poter ascoltare la radio, c'è anche la funzione bluetooth per cui da questo punto di vista lo reputo veramente molto molto completo. Mi piace la finitura rossa che dà quel senso di gaming molto molto bello, ma adesso parliamo delle periferiche. Allora il mouse si è comportato molto molto bene, è abbastanza reattivo attraverso il cavo USB. Non abbiamo nessun tipo di perdita, molto reattivo, la rotella si comporta molto bene, possiamo personalizzare i due tasti. La qualità costruttiva non è sicuramente eccelsa, ma per il prezzo devo dire niente niente male. Per quanto riguarda la tastiera, una tastiera 100%, abbiamo tutti i tasti, anche i tasti in numerico. Possiamo andare a personalizzare i nostri tasti attraverso Windows. I rialzi sono molto comodi così da facilitare sia la digitazione ma anche le sessioni di gaming. E poi la parte RGB veramente molto molto bella. Si collega anche lei attraverso cavo USB. A completare la nostra combo il tappetino per mouse. Qualità costruttiva devo dire ottima, mi piace tantissimo la colorazione rossa con la scritta Mars Gaming. Il mouse scivola tranquillamente, magari vi do un consiglio. Tenetelo un po' sulla scrivania in modo tale che non si formino le pieghe che purtroppo ci sono perché l'abbiamo tirato fuori dalla confezione. Molto belle anche le cuciture e dovrebbe essere abbastanza resistente. Nella parte posteriore poi è gommato o antiscivolo. Sì a questo punto vi starete chiedendo vale la pena acquistarlo? Beh ragazzi permessi potete cominciare a entrare nel mondo gaming con una cifra veramente irrisoria. Adesso però tocca a voi, fatemi sapere che cosa ne pensate di questa combo di Mars Gaming. A questo punto non mi resta fra l'altro che salutarvi da Mars Gaming, la Retechera è tutto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Noi ci vediamo in un prossimo video.